Patteggiamento per cinque componenti della banda di falsari con base a Piacenza, che aveva creato una sorta di zecca clandestina nella quale produceva monete e banconote false che venivano riciclate in Svizzera trasformandola in bitcoin. Un gruppo di persone che faceva capo Giancarlo Miserotti, tuttora in carcere insieme a un settimo indagato, e che ha scelto di non patteggiare. Miserotti è accusato anche di traffico internazionale di stupefacenti, avendo avviato tra Cina e Stati Uniti un commercio illegale di fentanyl, la droga sintetica 50 volte più potente dell'eroina. Nel capo di imputazione relativo all'associazione delinquere si legge che Miserotti rivestiva il ruolo di vero e proprio falsario, gestendo tutto il processo produttivo della moneta contraffatta, affiancato dalla moglie Olena, la quale, motivando e sollecitando il marito a incrementare la quantità della produzione al fine di ottenere profitti più elevati, si occupava anche di alcune fasi della produzione. A parte un imputato accusato di ricettazione, tutti gli altri rispondono del reato di associazione delinquere finalizzata alla falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato di monete false. Sospensione della pena per tutti, il giudice ha inoltre disposto che paghino le spese di mantenimento in carcere. Infatti, nel novembre dello scorso anno, quando scattò l'operazione painkiller della Guardia di Finanza, finirono tutti dietro le sbarre. Grazie. Grazie.